Cominciare il 2018 come era finito il 2017. Questo è l'obiettivo di Subasio e Lama alla vigilia della prima giornata di ritorno. I padroni di casa vengono dal successo nel derby col Petrignano, mentre i bianconeri di Andrea Bricca vogliono confermare la vittoria ottenuta sul difficile campo dell'Anarnese. Il grande ex Marco Bonura lascia in panchina l'altro ex, Kribek, optando per un 4-3-3 con Dedi e Ricciolini nel tridente con Ameti, mentre Bricca propone il giovane Giovacchini ad agire sulla tre quarti, alle spalle di Pier Gentili e Stefano Bartolini. L'arbitro è le Orsini di Terni con gli assistenti Lauri e Buonacore di Gubbio. Nel primo quarto d'ora i ritmi sono bassi e il campo, tutt'altro che in buone condizioni, non facilita i giocatori. E allora la prima azione degna di nota arriva al quindicesimo, quando un tiro di Barbacci viene respinto da Bastianoni in calcio d'angolo. I padroni di casa reclamano per un possibile tocco di braccio, che sembra esserci, anche se l'arto appare molto vicino al corpo. Neanche un giro d'orologio e Catarinelli è chiamato al superintervento per disinnescare il preciso destro dal limite di Pier Gentili. Ma è un fuoco di paia, perché i portieri restano inoperosi per i successivi venti minuti, fino al trentacinquesimo, quando ancora Catarinelli è chiamato ad intervenire sul tiro di Berrettoni dal limite. La Subasio fa la partita, mentre il lama si difende molto ordinato e tenta qualche ripartenza. Su questo copione si chiude la prima frazione, con uno 0-0 che rispecchia i valori messi in campo dalle due squadre. La ripresa si apre su ritmi più brillanti. Dopo cinque minuti è a meti a farsi vedere con un tiro al volo dal limite. Ottima la coordinazione, un po' meno la precisione, con Giunti che blocca a terra. Risponde tre minuti dopo Giovacchini, che dai 25 metri chiama Catarinelli al secondo grande intervento di giornata. La partita si accende, con la Subasio che aumenta notevolmente la pressione. E al 14esimo tocca a Colombi spaventare Giunti. Il numero 10 si coordina e lascia partire un violento destro sul quale il portiere ospite interviene smanacciando. Altro episodio da Moviola 5 minuti più tardi. Punizione di Barbacci dalla tre quarti, con Hannibaldi che inzacca di testa ma a gioco fermo per il fuorigioco di quest'ultimo. Le immagini non aiutano a chiarire. Il secondo tempo è tutto di marca Subasio, ma i ragazzi di Bonura non riescono a sbloccarla. Al 35esimo, ennesima sgroppata di bolletta sulla sinistra, con il capitano che serve un ottimo pallone in area sul quale nessuno dei suoi compagni riesce ad intervenire. La Subasio spinge al massimo e al 38esimo è ancora Colombi ad impegnare Giunti con un preciso colpo di testa che il portierino ospite a scaltro a mandare in calcio d'angolo. Anche nei 5 di recupero è forcing dei ragazzi di Bonura, ma non basta perché il lama dietro è invalicabile e così finisce a reti bianche. Un punto prezioso per il lama di Andrea Bricca che vendica a metà la sconfitta dell'andata. Nella domenica delle sorprese non riesce invece a fare bottino pieno la Subasio, che muove comunque la classifica e rosicchia un ponticino al Bastia Capolista. Sì, sì, certo. Come ho detto prima, venivamo una partita, la prima che si risioca dopo le feste, dopo la sosta natalizia, è sempre un po' a rischio. Comunque credo che siamo stati bravi ad interpretarla in maniera positiva, dove siamo stati molto attenti in tante situazioni. Anche perché questo è sicuramente un campo molto difficile, sono terzi in classifica e anche non prendere gol in questo campo comunque è sintomo di attenzione. Quindi tutto sommato credo che la prestazione è stata positiva, è stata una partita abbastanza equilibrata. Faccio i complimenti a Subasio perché è una squadra che a me piace tanto perché è molto concreta, fa delle cose semplici ma fatte bene in maniera decisa. Credo che siamo contenti e ci prepariamo ora per questo girone di ritorno molto infuocato. Sì, se guardi la classifica sì, ma se guardiamo il nostro obiettivo no. No, quindi il nostro obiettivo è la salvezza, prima cosa. Dopo è chiaro che una volta raggiunta speriamo il prima possibile, se c'è da lottare per un posto di playoff lotteremo, però il nostro obiettivo è la salvezza. Oggi purtroppo non si è riuscita a vincere ma non era facile perché la prima partita comunque dopo tre settimane che si è fermo, abbiamo incontrato un lama che comunque si è difeso bene. Il primo tempo non tanto bene, il secondo invece si è riuscito un po' a alzare i ritmi, abbiamo messo un po' lì l'avversario dentro la loro metà campo, però senza creare grosse occasioni effettivamente. Qualche tiro da fuori, qualche cross che non si è riuscito a chiudere, però penso che sostanzialmente il pareggio è giusto.